Cine Giornale presenta Riflettori sull'avventura Quello che state osservando è un filmato mai visto prima dall'umanità civilizzata Un mondo perduto in Sud America che all'ombra delle maestose cascate paradiso sfoggia piante e animali non ancora scoperti dalla scienza Chi oserebbe calcare questa inospitale vetta? Ma il nostro protagonista odierno, Charles Muntz Ecco l'amato esploratore che atterra con il suo dirigibile Spirits of Adventure nel New Hampshire Al termine di una spedizione nel mondo perduto Il velivolo è stato ideato da Muntz stesso ed è più lungo di 22 furgoni della polizia messi in fila Ed ecco che arriva l'avventuriero, inseparabile dai suoi fedeli cani Muntz ha concepito il velivolo per il loro comfort È un vero palazzo che fluttua nel cielo Completo di bagno per cani e dispositivo meccanico per le loro passeggiate E per Dincibacco la gente considera Muntz il meglio del meglio E come? Ma che cosa ha portato Muntz questa volta? Cosa ha riportato? Caspita che incredibile mostro Ma che succede? Gli scienziati gridano all'imbroglio La Società Nazionale Esploratori accusa Muntz di aver artefatto lo scheletro L'organizzazione revoca a Muntz il suo distintivo Umiliato Muntz giura di ritornare alle cascate paradiso E promette di catturare la bestia viva Ed ecco che parte per riscattare la sua reputazione Buon voyage Charles Muntz E buona fortuna per la cattura del mostro delle cascate paradiso Amici di The Man Under The Hood Benvenuti e bentrovati Nuovo appuntamento con Ci sono cascato di nuovo Il format che va a coinvolgere Chi precedentemente ha partecipato ad un live talks E li va un po' a mettere alla prova Intervallando momenti Diciamo interviste emozionali Aneddoti con attimi dove si gioca Dove si fanno delle performance Come direbbe la Guzzanti Però, però, prima di iniziare con la ciccia Andiamo un po' a ricordare quello che è bene Che tutti voi facciate Per fare in modo di informarci Di farci sapere se apprezzate, se non apprezzate Quindi iniziamo con le basi Segui su tutti i social Attivazioni di campanelle dove esistono le campanelle Seguiteci anche su YouTube, Instagram TikTok, Spotify Perché ogni social ha dei contenuti esclusivi Che non trovate da altre parti Quindi YouTube e Spotify per le puntate integrali YouTube ci vedete Spotify ci ascoltate Instagram, TikTok, YouTube Shorts Per tutto ciò che riguarda degli estratti clip Telegram invece Per quello che riguarda contenuti backstage Quindi poi non dite che non vi ho informato Sulla The Man Under The Hood Experience a 360 gradi Stasera qui con me c'è Spanchi Come co-host Ciao Spanchi Buonasera, buonasera Dai, non fate così Sempre il solito Non fate così Spanchi è comunque un valido membro del nostro equipaggio Quindi merita rispetto Equipaggio Merita rispetto Spanchi Non dare retta a chi ci ascolta Benvenuta Sono molto contento Grazie, grazie Man Prego Però sono ancora più contento Perché abbiamo un ospite straordinario Che abbiamo imparato ad apprezzare con noi Già un paio di volte in precedenza Ma molti ci seguiranno per la prima volta Quindi l'emozione della prima volta ci sarà anche questa sera Diamo il benvenuto a un attore, doppiatore, direttore di doppiaggio straordinario Davide Lepore Ciao Davide, che bello vedersi dal vivo finalmente Oh, finalmente dal vivo e non davanti a quel computer Con quella telecamerina, quella cosa Nemmeno adesso mi posso toccare Esatto Puoi toccarci, palparci Far di noi ciò che vuoi Poi dopo telecamere spente faremo Certo, certo, già ci siamo messi d'accordo Ci sto Scherziamo, scherziamo Hai capito Spanchi? Sto scherzando, mamma mia Mauro Tu puoi scherzare, io neva Bene, bene Ma poi lasciala stare, ma scusa Ma io non ho capito Una ragazza di una nuova generazione Per questo vuol dire che sono molto giovane Sì hai ragione Molto giovane Molto giovane Esatto Allora io mi allaccerai subito Ci siamo emozionati tantissimo Fin dalla prima lettura Con il cineannunciatore di A Mi hai sbloccato un ricordo Bellissimo Perché quando lo feci Mi chiamò Mi sembra che era Carlo Valli Mi chiamò Era il direttore E mi disse Dovidino Senti C'è questa cosa È una cosa piccolina Però A me mi piace Perché io lo so Che tu poi me lo fai così E le cose E io dissi Caro ma figurati Ci mancherebbe altro Non è la quantità Di quello che facciamo No ma è la qualità Di quello che facciamo E feci questo cinegiornale E poi mi resi conto Che questo cinegiornale Comunque Era una cosa che rimaneva Rimaneva impressa A chi vedeva il film Per cui insomma Mi ha dato soddisfazione Poi il film Io lo trovo un film Delizioso Sì veramente Di quelli che Che ogni volta Che lo rivedi Poi c'hai C'hai la cosa Il magone Te fai i pianti Perché Noi sembriamo Dei robot A volte ma Io per esempio Ho un altro film Che regolarmente Ho Sing Che regolarmente Ogni volta che lo vedo Ti piango come un vitello E per cui No è stato Il cinegiornale Alla fine Ma È una cosa a cui tengo Mi ha fatto Mi ha fatto piacere Che l'avete Riesumato Mettiamola così Vero Ma per sé Perché Perché Up Ti dico In assoluto Per quel che mi riguarda Il mio film Disney preferito Perché c'è tutto Ti emozioni Piangi Ridi C'è una storia forte Ti insegna tanto E ti lascia tanto E ho voluto metterlo Proprio perché Comunque Di quel film Quella perla rara Mi sembra Se non erro La prima voce Che sentiamo La tua È proprio La primissima voce Che ci spiega Un po' tutto È l'avete Ci fa capire immediatamente Il quadro Il mondo Dove ci troviamo Sì È l'apertura del film E quindi è stato bello Poterla ricordare insieme Sono contento Insomma Ti piace Sì sì no Assolutamente sì Veramente Mi avete sbloccato Un ricordo bellissimo Veramente bello Vedi Dai sono contento Spanky Ti lascio spazio anche a te Per le domande Perché se no dopo Non le faccio mai Va bene Va bene Io sarei una pazza Se non ti chiedessi Di Linda Di Bob's Burger Linda Che personaggio Ma tu lo rendi Un personaggio Veramente Spettacolare Divertentissimo Obiettivamente In originale Lei fa un po' meno Rispetto a quello che faccio Ma io mi sono fregato Con le mani mie Perché la prima stagione Io mi facevo il provino E Teo mi chiamò A fare il provino Perché comunque Anche in originale Sia Linda Che Tina Sono doppiate Da due uomini E mi chiamò A fare il provino Comunque mi divertiva molto Ma la facevo Sì con la vocina Con degli atteggiamenti Delle cose molto femminili Ma è dopo Che sono venute fuori Le Zeta Al contrario Le Cui Le Gui Sì le cose Che tutte le cose Che legge straniere Le dice come si scrivono La TV Lo Cio Che tutte queste cose Sono venute La U Così L'hamburger Cioè Sono cose Che sono venute Cazzarola soprattutto Cazzarola E Gioia Gaudio Quelle sono proprio mie E sono venute fuori Dopo Non rendendomi conto A lungo andare Che aggiungi 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 A volte Riusci a ricordarsi Tutto Delle Cui Le Cui Le Zeta Le cose E tosta A volte Fai delle Pappardelle Lunghe Così E c'ho la direttrice Che disperata Mi fa Che c'è Hai detto Tutti Ok Rifacciamo Devo di tutti Ok E allora Rifai tutto Perché poi Lei non prende Fiato Neanche Se ti ammazzi C'ha delle tirate Che io vorrei Veramente sapere Da dove respira Ma non andiamo A indagare Però Sì È un personaggio Che mi diverte Da morire Mi diverte Da morire Perché Faccio Veramente Quello che mi pare È scritto Poi già Di suo Nella Nella serie È già È già qualcosa Di eccezionale Perché lei sta proprio Nel suo mondo Fa delle cose Allucinanti E E quello che mi ha dato Poi ancora più soddisfazione È stato quando abbiamo Fatto il film Ed è stato ancora Più difficile Le canzoni Ci sono Due tre canzoni Che sono Belle toste Però A me Mi diverte Da morire Cantare Ho fatto da poco Un'altra cosa Per la Disney Molto bella Di canto Mi diverte Però Linda No Linda è proprio Il suo mondo Folle Totalmente Folle Ho cambiato Tre mariti Perché Ho cambiato Tre dubbiatori C'è stato un cambio di voce Sì perché Purtroppo Mino non sta benissimo E quindi Ha mantenuto Peter Che già è Bello Faticoso E Sì è impegnativo E Per cui È stato sostituito Da Emanuele Durante Che è bravissimo Devo dire A me piace tantissimo Emanuele Su questo personaggio Perché Non è caduto Nell'imitazione Degli altri E quindi L'ha fatto suo E mi piace molto Come lo fa Poi Eman Se lo merita Perché diciamo È una nuova leva Del nostro mondo È un caro amico Siamo Siamo molto amici E se lo merita E se lo merita Tutto Però io mi sono ritrovato A cambiare tre mariti Durante Durante le tre stagioni Sono passato da Stocchi A Mino E sono arrivato A Emanuele E poi Io A parte il mio C'ho un personaggio Tutti hanno La loro Chiave La loro cosa Ma io C'ho il personaggio Che fa perla La figlia Con le orecchie Da coniglio Che È di una cattiveria Quella bambina È di una È sadica E perla La rende In una maniera Infatti ogni tanto Ci incontriamo Nelle sale Che ci diamo Il cambio sul turno Che lei è innamorata Di Linda Io sono innamorato Di lei Per cui Ci facciamo poi I complimenti A vicenda Il nome Non ci verrà mai C'è Tina C'è Gin Gin Bob Luise 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 Tesoro di mamma Vedi che professionista Davide No come te Che non sei niente Ma io lo sai Con i nomi Ho un po' di problemi Però tutti Tranne la bambina La bambina L'hanno arrivato Ho detto ciao Carlo Per cui Non è vero È vero C'era anch'io Non è vero C'era anch'io Si Spank Ha fatto ciao Carlo Ciao Carlo Mi sono tirato Ho detto Ho arrivato qualcuno Ho arrivato qualcun altro No Non è vero Non è vero Siamo cattivi Ma guarda La conoscono la professionalità De Spanky Quindi sanno che è una cosa Assolutamente Probabile che succeda È vero Mi tratti sempre male Ma io penso Molto professionale Molto professionale Molto professionale Senti ma dato che mi hai tirato Subito fuori Linda Noi abbiamo già preparato Una lettura Abbiamo parlato Di tutta la caratterizzazione Facciamo anche ascoltare A chi ci segue Non siete pronti Una curiosità Prima che inizi Ma tutti queste accortezze Che ti devi ricordare A livello di pronuncia Te le segnano A livello di copione O in copione È scritto assolutamente normale È scritto normale Quindi devi ricordare tutto Ma leggendo ormai viene Ma no perché Perché Cioè i copioni Gli adattatori Li segnano Scrivono la frase normale Ah ok E poi sta a me Leggendola Che Ah ok Ma funziona così Nessuno te lo ricorda Ma funziona così Anche per quegli accenti Non so se devi fare Accento tedesco Allora Sì perché Quello che diventa Poi la caratterizzazione Del personaggio È a discrezione Del direttore Ok Perché può essere Un po' più accentuata Un po' meno accentuata Per cui L'adattatore Lo dico perché Facendo corsi di adattamento È una di quelle cose Che insegno Ai ragazzi Che vengono ai corsi Loro devono scrivere La battuta Normale Ok Senza metterci Cioè se quello è cinese Loro non devono mettere Le L Al posto delle R Ma primo perché Diventa difficile per me Leggerlo E poi perché La caratterizzazione Ripeto È a discrezione Del direttore Ah ok Per cui Noi quando poi Facciamo la caratterizzazione Lo facciamo ma leggendo Da una frase normale Ok Poi ci mettiamo I vari accenti E le varie cose E quindi anche Le omissioni O le aggiunte Tipo Non mi viene in mente Un cinese Che può omettere Gli articoli Quindi sono andato Anche quello Anche quello Comunque sia Poi è una cosa Che facciamo Noi direttamente Attorialmente All'eggi Questa è una cosa Molto interessante Perché io Ad esempio Nella mia ignoranza Pensavo che Aveste magari Anche Che ne so Mi zono Con la z Invece no Lì è tutto scritto In italiano E poi L'attore Il direttore Insieme Decideranno Il direttore Decide che quella Sia la caratterizzazione E l'attore La fa Ma legge Parte da una lettura Di frase normale Scritta in italiano Normale Grazie perché Mi hai aperto un mondo Cioè ero sicuro Che invece Trovavi Che ne so Andale Con scritto Andale No perché Al mio occhio È più difficile Certo A mio occhio È più difficile Leggere Andale Che leggere Andare E dire Andale Ok Ok Diventa più Strano No Come cosa Da leggere Chiaro Allora Che cosa abbiamo qua Linda Vediamo Io sono curiosissimo Perché Devo ammettere La mia ignoranza Non conosco il cartone Quindi lo sta assistendo Per la prima volta Ma devi vedertelo Su Disney Io sono afferratissimo Sui Simpson E sui Griffin E fare valere Però Bob's Burger Non lo conosco Te faccio mia colpa Adesso Mi beccherò i commenti Negativi di tutti Giustamente Giustamente Esatto Una shitstorm Allora Tina Vuoi diventare Una Una Curleather Perché lei dice Le cose Perché lei Le parole In inglese Le lice Come si scrivono Per cui È la Curleather Non c'è l'idea Sì sì Allora Tina Vuoi diventare Una Curleather È Eccitante Le Curleather La aiutano la squadra A vincere Saltando qui E lì E poi ti chiedono Se sei pronte Che dicono Ok E altre parole Così P A R O L E Io ero Una Curleather Cioè La mia migliore amica Monica Lo era Ma ero sempre Quella squadra E loro erano tipo Andiamo all'allenamento E io ero tipo Ok Vi porto io Sì Bob Incoraggiala Tina Tesoro Se non ce la farai Non fa niente Guarda che a volte Le Curleather Non sono persone carine La mia amica Monica Una volta Mi ha mollata Al balcone del ciibo Per uscire Con le Curleather Ho mangiato Così tanti assaggiini Di pollo al sedano Che ancora adesso Non riesco a mangiarli No non è vero L'ho mangiato L'altra sera Lo so Ma non mi è piaciuto Donata Monica Sì che poi Quando si arrabbia Tira fuori Delle voci Ti è venuta voglia Ti è venuta voglia Stai appena Stacchiamo No ma guarda Guardate il film Posso iniziare dal film Senza aver visto nulla prima Ma sì Perché sono abbastanza Delineati i personaggi Sì in effetti Sarebbe meglio Vedere qualche puntata Perché così capisci Le varie caratteristiche Se sei abbastanza Il sveglio Lo puoi capire anche Dalla sigla Perché la sigla racconta Sì la sigla racconta tutto Sì È dura pochissimo Quindi se sei abbastanza Capisci la situazione Quindi vedo la sigla E poi mi recupero il film Lo recuperiamo Senti però Prima di andare A quel primo giochino Che è una sorta di quiz No? Per vedere quanto Poi tu effettivamente Mi dice giochino Con sta voce Mi preoccupa Giochino Che devo fare dei giochini Sembra tipo solo L'enigmista Stavo guardando Fra tutte queste cose Meravigliose Se c'erano manette Frusti Per fortuna C'è una benda C'è una benda Quello sì Ecco Una benda c'è Però no Non useremo attrezzi del mestiere Di spanchi Ma no Però prima di iniziare vorrei Non sono un mestiere hobby Non è un mestiere proprio hobby Io vorrei chiederti Di un personaggio Che l'altra volta Quando ne parlammo Gente è impazzita Tanta paura No 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 Non stiamo parlando di quello Però poi riparliamo Forse un attimo No è impazzita positivamente Sto parlando di Robert Oh Robert di Paso delante Io ti giuro Cioè era una serie Che seguivo di tanto in tanto Quando magari nei buchi E tutto Però non pensavo sinceramente Che a distanza di così tanti anni E così tanto tempo Potesse essere ancora così Attuale Ma guarda Tanto stanno L'hanno credo rimessa su Netflix Per cui ci sono molti ragazzi Che la stanno rivedendo O vedendo Per la prima volta Perché comunque è stata una serie Allora voleva diventare Il saranno famosi spagnolo Praticamente È chiaro Gli americani Queste cose Stanno su un altro Un altro pianeta Però loro Cioè Le dinamiche Che hanno creato Tra i protagonisti Gli insegnanti Erano comunque molto Molto veritieri Della vita Da studente Di tutti i giorni Dalla vita Di studente Di una scuola Del genere E poi sai Io quando vedo I ragazzi giovani Ballare Cantare Fare È sempre bello È un po' È anche quello Che ci affascinò All'epoca Di saranno famosi Perché era la prima volta Che vedevamo Tanti ragazzi giovani Fare tante cose E farle E farle bene Poi ogni personaggio Ha la sua caratteristica Ha il suo carattere Nelle varie stagioni Perché è stata più di una stagione Ci sono rapporti di amicizia Che poi si spaldano Persone che prima si odiano E poi diventano amici Insomma Era fatta Era fatta molto bene Io poi faccio questo personaggio Mi divertiva molto Robert Perché era Diciamo lo stronzo Della situazione Che si sente molto figo Amo a te Però Più vai avanti E più viene fuori Il lato umano Di Robert E Quindi mi Mi piacque molto farlo Ci divertivamo molto A farlo All'epoca E Mi sembra con Simone proprio Simone Mori Era uno dei direttori È un bel personaggio Avevo sperato Perché all'epoca Michele Angelmunoz Mi sembra si chiami Lui Aveva fatto parecchio successo E insomma Ha fatto l'avero doppiato In un film In tutta la serie La prima cosa poi Che faceva Qua abbiamo preso uno Che boh Caccia abbiamo anni a venire Ha più fatto un cazzo Senza è più visto Almeno io Non l'ho mai più visto Ma devo dire che Eccetto forse Penelope Cruz No c'era la sorella C'era la sorella Non manca la sorella Niente C'era Manca la sorella Forse in Spagna Sono famosissimi Però diciamo A livello internazionale Nessuno ha più fatto niente Esatto Nessuno di loro Ho rivisto Eh sì Anche io sinceramente Eppure ripeto Era una serie Comunque fatta bene Purtroppo Censurata In Italia Lo stavo per chiedere Molto edulcorata In Italia Io sono sempre dell'idea Che se un prodotto Lo devi edulcorare E quindi lo devi stravolgere Rispetto a quello Che è l'originale Non lo prende Lascia stare Non lo comprare Però noi Ragazzi in Italia Purtroppo La televisione Non solo Quella Tante cose Da noi Non funzionano Perché abbiamo Il Vaticano Che ci dà una censura Molto 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 Forte Noi non riusciamo a fare Non siamo mai riusciti A fare una sitcom Degna di essere chiamata tale Perché comunque Cioè se tu pensi La miglior sitcom Che ne abbiamo avuto in Italia È Casa Vianello Ma dice proprio Di produzione italiana Era fatta benissimo Sì sì Parlo proprio di produzione italiana Perché noi Non possiamo toccare L'argomento L'argomento gay L'argomento droga Cioè problematiche Che sono all'ordine del giorno In tutto il mondo Ma quindi Questo tipo di censura Viene proprio dal Vaticano Diretto al Vaticano Beh sì Sì Vedi Vaticano Non fa manco parte di Italia È un altro Stato Ribellati Mauro Qua dietro Sì ma assurda Perché quando gli pare Sono altro Stato Quando invece Noi siamo un popolo bigotto È vero Noi siamo bigotti Siamo bigotti e guardoni E giudiconi pure Ma soprattutto guardoni A noi tutto quello che sono i reality In Italia impazziscono Oggi Un altro giorno mio figlio L'ho chiamato C'ha 15 anni Ho fatto Giacomo Che fai? Dove Dov'hai? Ah stasera Da casa di Ludovica Che guardiamo Tentation No Attimo di pausa Ho respirato Giacomo Lo guardate Perché vi divertite A prendere per il culo È certo Ah Ok No perché già La visione no La visione già cambia Dice sì sì È certo Però Poi invece Ci sono milioni di persone Ripeto Ognuno Sennò famo la seconda Dei Digimon Ognuno guarda Quello che vuole guardare È libero di guardare Quello che vuole guardare Però certo È anche colpa di chi Glielo propone Il programma del genere Possiamo definirlo Un programma inutile È un programma Sicuramente Trash Inutile Siccome è talmente Trash Ma è utile il trash? No aspetta Siccome ci sono delle cose Veramente Basic Secondo me Qualcuno da casa Che si trova Nelle stesse situazioni Ma non riesce a rendersene conto Ah dici potrebbe essere Si trova Si trova Una realtà Che dice Cazzo ma qui Andano tutti Ma io sono uguale Stiamo per dire Che è educativo Può salvare qualcuno Neanche Possiamo dire che Tempation Island È il quadro Lo specchio Della società attuale Forse Ma non è solo quello Ma il grande fratello Grande fratello VIP Che io vorrei sapere Che VIP Perché io quando mi hanno detto Grande fratello VIP E poi ho visto Le persone ce ne sono dentro A parte Fior Daliso Che la conosco Perché sono anziano Era una cantante De quando io Avevo 12 anni 13 anni Ma chi è Quello So VIP Perché una è la sorella di Una è il figlio di So VIP No perché se ci fossero VIP veri Sarebbe quasi divertente Interessante Quasi divertente da vedere Perché lì scopri il lato umano Capito Di alcune persone Che tu conosci soltanto Da un punto di vista No Artistico E allora Ma VIP Cosa La pupa e il secchione Si Ne so usci Di tutto Però vedo che li conosci Amore E la pubblicità Passa E ripassa Come fa non conosce La pupa e il secchione Tra l'altro Piccolo aneddoto Dalla pupa e il secchione Alcuni secchioni Si sono dati al porno Non so se lo sapevate Veramente Come no Un secchione Si è dato al porno Uno dei secchioni Mauro le sue informazioni Come no Ma al porno Ho bisogno di whisky Per favore Dopo questa notizia Arriva Sì sì Sai che altro si era dato Poi al porno Mi sembra uno di No Questa non la dico Perché starò di una stupidaggine Ho il volto in mente Però non mi ricordo Quale tra i tanti Reality Se grande fratello Uno però di questi Anche se è dato al porno Quindi il porno Sta accogliendo un sacco di Persone di questi reality Entrano che vogliono fare gli attori Vedi qualcuno ce la fa Esatto Alla fine è sempre recitazione Col proprio corpo Sì Chiamiamola recitazione Che faiura Chiamiamola recitazione Faiura Però ripeto Torniamo a Monte La censura Alla censura Sì purtroppo Ci sono state tante scene tagliate Cioè loro che erano i spogliatori Se parlava quella Con le zizze le fori Veniva tagliata Perché alle tre di poveriggio Su Italia 1 Non potevi vedere Due zizze le fori Ma quindi voi la vedevate Però la scena la vedevate Perché vorrei parlare intero Sì sì assolutamente sì E quindi poi in quel caso Era direttiva diciamo di Mediaset Questa la tagliate Direttiva Mediaset Tagliare determinate scene No 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 Direttiva Mediaset Quindi arrivava questa Dicendo ok Da qua la tagliate Compreso alcune cose Di cui parlavamo Io racconto sempre La famosa cosa Di Robert Che sta con una delle ragazze E questa ragazza torna Torna in camera Dalle amiche E gli dice proprio testuale Gli fa ragazzi Robert C'è là così Dice proprio questo Robert È diventato Robert Sulla mensola C'ha il modellino Di una macchina Bellissima Mi piacerebbe tanto avere Ti rendi conto E ha cambiato Grazie Vaticano Quando fai così Stravolgi completamente Il significato Ma non solo Ma hanno stravolto Anche quello che era Il personaggio di Robert Perché Lui durante le stagioni A un certo punto Viene accusato Di aver stuprato Una ragazza Ok Cosa che poi Si scopre Non è assolutamente vera E allora Tanto per cominciare Lui entra In tribunale Dove in originale Urla Non l'ho violentata Non l'ho violentata Che ha un significato Ben preciso Anche forte no? Io ho dovuto dire Non l'ho abusato Di lei Non l'ho abusato Di lei Ragazzi Tu lo vedi Un ragazzino Di 18 anni 19 anni Che entra E fa Non l'ho abusato Di lei Non l'ho abusato Di lei Messere A un certo punto Più avanti Lui entra lì Come ballerino Ma fa anche D'attore E a un certo punto Lui ha Dei problemi Con un monologo Perché deve interpretare Una donna Che è stata Violentata Per cui Riminiscenza Di quello che gli è successo E tutto quanto Ha dei problemi E va dall'insegnante Di recitazione E Dice Non lo voglio fare Io questo monologo Non E quindi viene fuori Un lato anche No Profondo Di Roberto Un po' È diventato Che lui Non lo vuole fare Perché si deve vestire Da donna E lui è macio E da donna Non ci si veste Tu lì stravolgi Il carattere Del personaggio La delicatezza Che aveva lui Perché quello È proprio il momento Di trasformazione Di Roberto Quando vediamo Il lato più umano Del personaggio È diventato Che lui è macio Non si veste la donna E quindi non lo fa Che è un'altra cosa Che è totalmente Un'altra cosa E di questi esempi Questi su Roberto Ce ne stanno Tanti altri Di edulcorazione Che non Ripeto Come quando Edulcoravano South Park Infatti South Park È sparito ragazzi Praticamente è sparito Ma cosa Cioè Se l'episodio Il primo Poi Si chiama Kevin e la sonda anale Ancora me lo ricordo È stupendo Io posso edulcorarlo A livello di parole Quanto le pare Ma poi visivamente Quello sempre Una sonda nel culo Gli viene infilata Per cui Che te vuoi edulcorarli? Però l'hanno rovinato Perché hanno fatto perdere Noi addirittura Griffin Doppiavamo due versioni C'era la versione Che andava su Italia 1 E la versione Che andava su Fox Quella su Fox Era totalmente Non Non edulcorata E invece quella su Italia 1 Doveva essere edulcorata Questo sempre Per un errore Fatto a monte Negli anni Dove si è sempre pensato Che Simpson Griffin Questo genere di serie qui Fossero serie per bambini Da mandare Alle due di pomeriggio Su Italia 1 Quando la prima stagione Dei Simpson Con dei disegni Orribili Perché mi ricordo L'ultima stagione C'erano dei disegni Che erano agghiaccianti Andava la domenica sera Alle dieci e mezza Di sera Con tanto di bollino rosso Poi Se tuo figlio la guarda A quel punto diventa Un problema tuo Che fai Fare tuo figlio Lì No Alle dieci e mezza di sera A guardarlo Ma andava col bollino rosso Ci sarà un motivo Quando hanno deciso Di mandarla Poi uno di seguire L'altro Simpson e Griffin Mandano Alle due di pomeriggio Con i bambini Davanti alla televisione Chiaramente Certi A parte che secondo me I bambini manco li capiscono La sottigliezza L'ironia La perfidia La cattiveria Veramente che c'è In alcune cose Sono di un cinico I Griffin soprattutto Sono di un cinico Clamoroso Non la capiscono I bambini Ma non la capiscono Forse neanche i ragazzini De quindici anni Alcune cose Quelle non sono serie Per bambini O ragazzi Sono serie per adulti Punto E invece no Continuiamo Ecco continuiamo Quindi anche adesso Cioè non è per passo Adelante Ritornando lì Fosse stato doppiato oggi Una serie di oggi Sarebbe stata ugualmente Censurata così tanto Dipende dal canale dove va Noi quando facciamo Io faccio tanta direzione E per fortuna A oggi Faccio solo Disney e Netflix Disney ha una censura diversa E poi per prodotti Fino ai dodici anni Dodici Quattordici anni Ha un tipo di censura Che sta nel non poter dire Oh mio Dio Oddio Non possiamo dire addirittura Scommetti che Non si può dire Eroina Inteso come Eroia femminile E non si può dire Scemo Stupido Deficiente Tutte quelle Parole che Comunque derivano Da una malattia Per cui anche Demente Non lo puoi dire Però quello Fino ai quattordici anni Anche se Io ho fatto Tante serie Disney Sono loro i primi Che Nelle serie anche Di quattordici Quindici anni Ti dicono Ti prendo a calci nel culo Adesso è stato Sdoganato un po' Chiappette Perché l'ha detto Olaf In Frozen Quindi chiappette E allora chiappette È diventato Un termine Che volendo Approved Esatto Approvato Che si può usare Netflix È tassativo Quello che dicono Loro in originale Dobbiamo dire Noi in italiano Per cui se Quello dice Vaffanculo Noi dobbiamo dire Vaffanculo Non c'è proprio Netflix Quello che dicono Loro Dobbiamo dire noi Assolutamente Ok grazie Molto più in linea Con Netflix Sì E la Disney Però per esempio Su Disney Plus C'è un canale Che è Stars Che è quello Per i prodotti Un pochino più Io avevo diretto Una serie Si chiamava Bless the Heart E lì Potevamo dire Quello che volevamo Quello che dicevano loro Tranquillamente Dicevamo Dicevamo noi Ma perché loro Sono molto più leggeri Nel dirle A me pensa Che a volte Capita Magari di toglierla Non per edulcorare Ma perché Per loro è un intercalare Sentirla in italiano In quel momento Un cazzo più Merda e meno Non ci cambia I fini della storia I fini della situazione Magari si leva Perché dice Tanti nudi Diciamo a fa Ok Però quelle Quando hanno Un senso ben preciso Quelle rimangono Quizzettone Spanchi Attenzione Quizzettone Ti leggerà malissimo Nel suo stile Proprio cane Cioè Parla a proposito Di attori cani Ti leggerà malissimo Quattro frasi Dette dai tuoi personaggi Ti darà tre chance E tu devi dire Chi è il vero Indominare qual è il tuo personaggio Madonna mia ragazzi Sono Sono C'ho la memoria Di un criceto Vediamo che è sciato Ecco le mie intonazioni Di un criceto sbagliato Allora Sulla ruota Va bene Proviamo Proviamo Può arrivare fino a dieci Quindi due e mezzo Cinque Sette e mezzo Dieci come voti Questi sono i voti O zero Che paura Vediamo Prima frase La vita può essere migliorata E degna di essere vissuta A Danny in Shining B Cedric Il piccolo lord C Penny Bianca e Bernie Ridimmi la frase La frase è La vita può essere migliorata E degna di essere vissuta Allora Forse il piccolo lord Bravissimo Il piccolo lord Due e mezzo ce lo siamo portati Intanto il due e mezzo No ma sono andato Per logica Esclusione Sì perché Penny Che dice una frase del genere E anche Danny Che dice una frase del genere Mentre C'era il piccolo lord Contreroi Potrebbe Poteva essere Bravissimo Due e mezzo ce lo siamo portati Presa Presa Sufficienza è cinque Sufficienza è cinque Ma io credo che tu riuscirai tutto Vediamo Seconda frase Seconda frase L'attirata No io porto sempre bene Ok I film di oggi sono come i popcorn Te li dimentichi subito Quando li hai finiti A Rudney A morte Hollywood B Robert Robert Paso adelante C Oz Buffy l'ammazza vampiri Allora escludo Robert Ok Escludo Robert Quindi la battaglia tra Oz Escludo anche Oz Forse il primo Rodney Sì Invece no Ah Peccati Era Oz Era Oz Era Oz Dire l'ammaffata Buffy l'ammazzata La maffa vampiri Prima Robert Poi la maffa vampiri Però abbiamo detto Che devo mettere in difficoltà Sì sì La maffa vampiri No perché non Perché non ricordavo Che avessimo mai Trattato argomenti del genere Durante Buffy Con questo personaggio Per cui Altro personaggio iconico Tra l'altro E poi si scoprì Che invece Gli abbiamo messo la frase Finta No Ma voi lo sapete Che Seth Green È il doppiatore americano Di Chris Griffin Io personalmente Non mi sa di no Io fui chiamato apposta A fare Perché io doppiavo Seth Green In quel periodo E la direttrice Mi chiamò Perché Perché la voce originale Di Chris In americano È Seth Green Quindi è così Che tu sei entrato Nel mondo Griffin Nel mondo Griffin Se ci riesce Ci posso arrivare Ci posso arrivare Probabilmente Sto lavorando Su una smorfia Per la nuova serie Sai Qualcosa di buffo Come quella vecchia A Guacco Animaniacs B Cappellaio matto Gotham C Belson Clarence No mi sa che è guacco Bravissimo Mi sa che è guacco Questo Che bella quella serie Mamma mia Animaniacs No poi bellissimo No abbiamo fatto Abbiamo cantato Quasi 60 canzoni Io Max e Ilaria E canzoni Tipo quella delle regioni Di tutto il mondo Mamma mia Mamma mia Ma non solo quelle C'erano un sacco di citazioni Era molto educativa Quella serie Peccato Mandate in onda malissimo Da Ray 2 Perché era piena Di citazioni letterarie Cinematografiche Musicali Era veramente Veramente bella Abbiamo fatto Il lavoro Mi ricordo Abbiamo fatto quasi un mese Di incisione di canzoni Ci siamo divertiti un sacco Ok sto a 5 5 La sufficienza ce l'abbiamo Dai la nostra sufficienza L'ultima The last one Comunque arrivare a 7 e mezzo Che Questa è facile secondo me Vediamo Un'altra volta bruciata Un'altra volta Guardate Spanchi è una sentenza E ricordate In rima dirò Qual è il compito egregio Riportate il gioiello E annullate il sortilegio Oddio A Euripì 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 Stasera spanchi Stai dando prova Veramente Della tua bravura Sina B Leprotto Marzolino Mai sentite Alice Alice Mazzale Leprotto E C Nigel Jumanji Benvenuti nella giungla Ripetilo La frase E ricordate In rima dirò Qual è il compito egregio Riportate il gioiello E annullate il sacro Il sortilegio Sì bravo Il sortilegio Jumanji Bravissimo Jumanji Bravo Benvenuti a Jumanji Divertente Divertentissimo Con me è stato veramente difficile E' stato molto bravo La maffa vampiri La maffa vampiri La maffa vampiri Baffi La maffa vampiri Bazzi La maffa vampiri Rimasta storica Abbozzi a canni È una cosetta Che abbiamo solo noi Perché Io ti darò quattro situazioni Ok Ogni situazione C'ha un pro E un contro Mettiamola così Tu ci dovrai dire Se all'interno di quella situazione Tu Accetteresti E quindi abbozzi O Dici No assolutamente no Quindi Accanni Sei pronto? Vai Vado con la prima? Vai La prima è questa La prestigiosissima Squadra di serie A AS Roma Ti vuole fortemente Come unica voce ufficiale Per tutti gli spot Promozionali No 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 Sono della Lazio Spigatato Aspetta aspetta Per tutti gli spot promozionali Che riguardano il mondo Giallo rosso A 360 gradi Compresi merchandising E campagne abbonamenti Dovrai terminare Tutte le pubblicità Accantando Roma 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 Il compenso è alle stelle Guarda Penso che neanche per un milione di euro Ok Ok Quindi non c'è cifra che ti possa comprare Assolutamente no Non uscirà mai dalla mia bocca Roma 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 això Con l'enfasi Che servirebbe Per la campagna abbonamenti Abbonamenti E tutto quanto Dimenticate voi Ma ci vuoi accennare Roma 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 Vado a vivere sotto ai punti No Sì sì No sì però no Ragazzi C'è il mio sport Vado a vivere sotto i punti Vado a vivere sotto ai punti Eh Core d'estate Passa Mauro Accannato Vai avanti Unico Niente Niente E ci siamo giocati È lavoro in teoria Ti assumono È un po' come il calciatore laziale Che viene assunto dalla Roma per giocare Non succederà mai Cioè se è successo e giocavano sotto la maglietta Con l'aquilotto qui Ma è successo forse Non riesco a convincere Davide mi avrebbe detto no Questa è una canna enorme Già mi ti vedevo anche negli spot Con la maglietta giallorossa No, sì, poi capirai Bello poi con addosso Guarda potresti vedere Ma neanche la sciarpetta Potresti vedermi esulticchiare Mettiamola così Soltanto nel caso Perché è una cosa che non gli negherei di fare Mio figlio è laziale spiegatato Forse più di me Però gioca pallone Lo dovessero chiamare alla Roma Non direi di no Perché quelli sono altri discorsi Anche lui lo sa Lì magliettina giallorossa No Con scritto dietro l'epore Magliettina giallorossa ce l'avrà lui Con scritto l'epore Ma non Te niente Io no Vandrò a tifare per lui Per lui E nel derby perché ti feresti? Per tuo figlio o per la Lazio? Lo so che il mio figlio nel derby farebbe due papere apposta Per far vincere la Lazio Per cui va bene così Va bene O farebbe in modo che ne so Un attacco di dissenteria prima della partita Non giocherebbe No la professionalità è quella Ci mancherebbe altro Però no Di certo non esulterei E ti farei comunque Lazio Anche se mio figlio gioca nell'altra squadra Ti farei Lazio Va bene La professionalità stessa Che avresti tu nel cantare Roma 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 Qualora fossi assunto Ma io devo prima accettare per essere assunto Nel momento che io non accetto Non vengo assunto Fa una piega Nel discorso in linea Saludiamo comunque l'Epole Junior Va bene Allora Seconda Allora quindi abbiamo il primo accanto Un importante attore che ha sempre ridoppiato tu Fa il protagonista in un film che si prevede essere campione di incassi Il direttore di doppiaggio assegna quel ruolo a un tuo collega Mentre ti distribuisce nella stessa pellicola su un attore non protagonista Abbozzeresti e accanneresti? Ma guarda allora Per come siamo fatti quelli della mia generazione E ci sarebbero Quello che viene chiamato per doppiare l'attore mio al posto mio Rifiuterebbe Ok E' capitato L'abbiamo fatto E se poi dovesse succedere Che lo fa qualcuno Con cui non abbiamo questo tipo di legame E di rispetto Ma perché questo è il rispetto che noi ci portiamo avanti da 40 anni e passa di amicizia Ok Il rispetto che possiamo avere io, Fabrizio Vidale, Nanni Baldini, Alessandro Quarta Le nuove generazioni fanno quello che vogliono Non ci interessa Però è successo di venire chiamati a doppiare attori nostri E siamo noi prima di dire scusate ma Stattore è una doppia tal dettagli E lo so ma ha chiesto troppo Ed è capitato più di una volta che noi stessi Ho detto vabbè dammi due giorni di tempo che ci penso Ok Quanto hai chiesto? 20.000 euro Ok ciao ciao Allora Davide hai pensato sì 21.000 euro Ma Ho chiesto di 20 Eh vedi che bello però sto rapporto Questo è tra i nomi che ti ho fatto C'è Ok la nostra generazione E poi a oggi Ragazzi i direttori sono liberi di chiamare chi vogliono Ma anche perché ho un concetto che mi è stato inculcato da piccolo Da quella meraviglia che era Mario Maldesi Direttore di doppiaggio meraviglioso E con cui ho fatto Shining e ho fatto Penny Cioè per dirti no Gli antipodi proprio di cose E non solo quello E è una cosa che io dico sempre ai miei allievi Al doppiaggio E noi non doppiamo gli attori Noi doppiamo i personaggi che fanno Che è diverso Infatti Ferruccia Mendola era giusto Su Al Pacino e Scarface Giannini è giusto in Al Pacino Nel mercante di Venezia È sempre Al Pacino lo stesso attore Ma sono due personaggi completamente diversi Uno è giusto per una cosa Uno è giusto per l'altra Non è un po' strana sta cosa Perché essendo lo stesso attore Anche lo stesso doppiatore potrebbe arrivare a dare Quelle due intensità Che comunque lo stesso attore riesce a dare Cioè nel senso se riesce l'attore Perché una stessa voce non potrebbe riuscire Ma sì Può anche essere Però non ci trovo nulla di male A ragionare sui personaggi A ragionare sul personaggio A me è successo ultimamente E non so se l'ha mai scoperto Se me ne vorrà o non me ne vorrà Però ora comunque Lo scoprirà adesso ma non credo che segua Che segua la trasmissione E di avere su una serie Un attore L'attore di The Mentalist Che ha fatto sempre Sandra Cerbo Ha fatto sempre Sandra Cerbo In questa serie io l'ho fatto doppiare a Massimo Lotolo Perché è mezzo umbriacone Guarda barba grosso Non è tutto perfettino Come The Mentalist Vocalmente Sandro secondo me Non ci sarebbe stato bene E quindi l'ho fatto fare a Massimo Lotolo Noi doppiamo i personaggi Non doppiamo gli attori Ragazzi Ok Almeno questo è il mio punto di vista E certo Ognuno poi ha i suoi punti Le sue credenze Le sue capizze Quindi in quel caso comunque Alla fine accetterei Abbozzeresti Sì Va bene Mi dispiacerebbe Chiederei spiegazioni Magari al direttore Perché Ma poi se lui mi dicesse Perché non ci vedevo Che devi dire Va bene È un po' È lo stesso concetto di quando Tra di noi Ci chiamiamo Io l'altro giorno Lo sono andato a fare Non posso spoilerare cosa Perché la cosa ancora non è uscita Ma un personaggetto di 15 righe Con Gabri Patriarca In direzione E E lui mi ha detto Ci tenevo Come facevi adesso Solo 15 righe Se tu Quella faccia Se per te Ha la mia voce So 15 righe O so 100 Io ci vengo Perché ragiono anche io Così da direttore Mi capita di chiamare a volte Amici Di dirglielo Dici guarda So 12 righe Però per me C'ha la voce tua Questo Vieni Ma sì È successo Poco tempo fa Con Paoletto Vivio Paolo C'è una cosetta Una stupidaggine So 20 righe Me la vieni a fare Però perché Per me c'ha la voce tua Dici sì Da certo C'è qualcuno C'è qualcuno Vuole tra gli attori Che vuole tra gli attori Del suo nuovo Attesissimo film Quindi proprio attore Tuttavia verrai doppiato Anche nella versione italiana Peraltro da un collega Che non sopporti E non reputi All'altezza della situazione Che vuole dire Anche Nella cosa italiana Perché ovviamente Nelle In tutti gli altri Paesi stranieri Ci sarà Il doppiatore Straniero Ma in inglese no Perché io lo farò in inglese In inglese non mi doppieranno No Però nella versione italiana Sì Va bene Va bene uguale La prendessero col doppiato Ma sì Da un collega Che però non sopporti Ma non mi interessa Non chi se ne frega Comunque Quentin Tarantino Cioè lavoro con Quentin Tarantino Nel film originale Sono io Va bene così Va benissimo Abbozziamo la grande Certo Però io Per sentirmi quella voce Ho capito Ma stai a fare Lo so E Quentin Tarantino Anche io avrei abbozzato Però comunque Ogni volta Mi sento Non me lo sento più in italiano Il film Ma non me lo vedrei Probabilmente Hai trovato la soluzione Ma neanche lo vedrei Sì Sto a Los Angeles A vedermi la prima Del film Con Quentin No C'è anche Margot Robbie Che lavora Ah beh Va bene Vieni ingaggiato Come voce narrante Questo è l'ultimo Di un documentario Nettamente di parte Su un argomento Di rilevanza sociale Che è molto a cuore Ti troverai costretto A leggere cose In cui non credi A riportare notizie Reputi false Manipolate e tendenziose Per un compenso Incredibilmente alto Qui stiamo parlando Di un documentario Nettamente No? Nettamente di parte È lavoro Quindi non ti dare Non l'ho scritta io Quelle cose Io ho dato soltanto La voce Non ti darebbe fastidio Leggere cose Sì mi potrebbe dar fastidio Ma lo farei comunque La professionalità La professionalità Poc'anzi citata Il problema È solo sulla Roma È solo sulla Roma Vedi però abbiamo trovato Una cosa su cui Chiederebbe È solo lì Ci sta Ci sta Vabbè Quindi abbiamo fatto Tre abbozzi Un accanno L'accanno L'accanno Solo sulla Roma Hai capito Va bene Prova di abilità Io devo dire Devo dire Che la colpa Di quello che accadrà È di Massimo D'Ambrosis Ah vabbè Lo puoi dire Lo posso dire Perché è già uscita Esatto Perché Questa prova di abilità Consiste in Dire per dieci volte Velocissimo Due termini Ah ok Uno vicino all'altro Però tipo Che ne so Tipo tre tigli Astuce astuce Veloce no Per dieci volte Cioè tre tentative Se ce la fai Ok Secondo me Però Massimo ha detto Provate a mettere Queste due parole Una vicina all'altra Secondo me È difficilissimo Quindi queste due parole Ti vado a leggere È colpa sua Le due parole sono Avevo avuto Ah sì Vabbè Dove viveva Vivian Avevo avuto 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 Cavolo Per me va bene Per me va benissimo Eh sì dai Hai incisa? Ok teniamo Dice che l'imperfetto È proprio Beh Avevo Terribile Segna dove viveva Vivian Dove vivevate Vivian Vabbè ma questo è famoso Questo è uno sketch famoso Tipo sopra la campa Sopra la campa Sopra la campa Siamo un po' come La mappa La campra banca Gli vuoi quei due bei kiwi verdi hawaiani Gli vuoi quei due bei kiwi verdi hawaiani Gli vuoi quei due bei kiwi verdi hawaiani Beh Hai capito spanchi? Ore ore Come gliela molla Però sì avevo avuto Non è facilissimo Vero Ma c'è una parola Che a te ti dici Cavolo Ogni volta che mi capita È la morte Può essere anche semplice Però Sì Andare a nuotare È una cosa che mi Nuotare 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 È una cosa che non Non mi viene facilmente Che come la vedi C'è che palle No nel senso che Mi devo impegnarmi Cioè mi devo dire proprio lì Poi ho scoperto dei trucchi vari Per esempio Avevo avuto Basta tirare la bocca In una certa maniera E fai Avevo avuto Ah ok Avevo avuto Avevo avuto Avevo avuto Eh vedi Anche è una questione muscolare Quindi Segnate gente Segnate Tanto lo dico Quando sento i miei colleghi Magari io sono in direzione Che non riesco Ne faccio In questo punto Tira Perché sennò c'è il vecchio trucco Quelli che si mettono la madre Le cose che per me non funziona Però Va bene Lo stesso Ma ci stanno alcuni di noi Che ci sono parole Che proprio Io mi ricorderò sempre La primissima cosa Che ho diretto In tutta la mia vita Era un documentario Sul Sul surf E Era la prima volta In tutta la mia vita Che dirigevo Per cui Come voce narrante Per il documentario Chiamai Quello che all'epoca Lo siamo ancora Era il mio Miglior amico Che comunque Non stava parlando In una vocetta qualunque Che era Chico Francesco Prando E Chiamo Chico E faccio Chico La prima cosa Mi viene a fare Sto Sì certo Viene Io non sapevo Che l'unica parola Che Chico non riesce a dire È adrenalina Tu ed è in un documentario Sul surf Quante volte Si usa la parola Adrenalina Adrenalinico Immagino moltissimo Non avete Per quanto abbiamo riso Su sta cosa Perché già la terza battuta C'è sta la parola Adrenalina E mi fa Da Io è l'unica parola Che non mi viene D'adrenalina Fanno tutti Non ti preoccupare Dai che tanto Non è Non è Il disastro Però ci siamo divertiti Veramente tanto Ma alla fine L'avete portata a casa Sì sì Assolutamente Assolutamente Non sapevi Che la parola Adrenalina Chico non riesce a dire Adrenalina Che dice adrenalina Si diventa un po' Anna Ox Adrenalina Adrenalinico A questo punto Io però Vorrei parlare Di Milaus Cioè Ma che personaggio Cioè Milaus Non lo so Non conosco Questo personaggio Anche perché Cioè Non conosco Questo personaggio C'è la famiglia I protagonisti Ma Milaus Ruba la scena Tutte volte ci sta Ma perché Tontolone Lui Lui è buono Lui C'ha avuto Il suo attimo Di gloria Quando lo presero Per doppiare Il figlio Del supereroe Lui ogni tanto C'ha poi Questo amore Per Lisa Da sempre È un pezzo È un personaggio Positivo Comunque Ed è stato poi Il primo Personaggio Dei cartone animati Se ci avete fatto caso Che ha affrontato La separazione Dei genitori Il primo bambino Che ha affrontato La separazione Dei genitori Su cui hanno creato Un mondo Poi No io Adoro Adoro È anche poi Il personaggio Che doppio Da più anni In assoluto Perché la prima serie La facciamo Nel 92 Sono 32 anni 32 anni Ma come Come è nato Cioè nel senso Come sei stato Distribuito proprio Su Milaus All'inizio poi Della serie Perché immagino Che Milaus Compaia fin da Quasi subito Dalla prima stagione E quindi Cosa hai pensato Il primo Ma noi Sinceramente Quando vedemmo La prima stagione Anche con Tonino E a Colla Che è stato Comunque Un maestro Per me E Gli ho detto Basta serio Sono brutti Perché erano veramente Brutti Però in America Già avevano fatto successo Per cui L'eco Già era Era già arrivato Da noi E E niente Mi disse Guarda questo L'amico Coglione Di parte Il protagonista Ma anche perché I primi anni E le prime stagioni E Era molto più Incentrato Su Sui bambini Su tutti I bambini Poi Ha preso piede Homer Ed è diventato Più protagonista Ma nelle prime stagioni Era tutto Su Bart Milaus Lisa Su Nelson Sui tre pazzi Patata I tre debociati Su Ralph Su Marty Sulle gemelline Era molto di più Sui bambini E niente Noi stavamo lì E Dicevamo Ma come lo facciamo Questo è un po' Tutto introne Anche perché Se ci fai caso La mia caratterizzazione È completamente diversa Dall'originale L'originale Lui è molto più Bimbo E Niente Proviamo una voce Non ci convinceva Ne proviamo un'altra Non ci convinceva Ne proviamo un'altra Ancora Non ci convinceva E io a un certo punto Ho semplicemente Fatto questo Ho fatto Sto incrocio De corde Perché se Tu ci fai caso Io faccio Delle doppie note Quando faccio Milaus Nel senso È strana Proprio come cosa E Torino Ma ci riesci a parlare Così Non lo so Proviamoci Anche perché Molti pensano Che io mi faccia male Alla gola Alla voce Quando invece Per fortuna Non è Assolutamente così E Quindi Mi dice Rifallo un po' E E E E E E E E E Veniva fuori E prova a dire qualcosa Ciao Ciao E E E E da lì Venne fuori Sta voce Assolutamente Folle Di Milaus E Disse Basta Questa Questa E così Praticamente Nacque Nacque la voce Di Milaus Che è bellissimo Cioè Milaus Che come apre bocca Lo riconosci subito Io penso La più particolare Che abbia mai sentito Da secoli È strano Sì Perché è strana Come dici te Sembra una doppia voce No? Sì Perché Belli Lo senti Sono Sì Sì Doppie No? Come note E Io poi racconto sempre Stranendo Lo che a me Mi ha fatto Ridere da morire E Vent'anni fa Quando era Stavo insieme a una ragazza Che aveva una casa In Sicilia E Andammo In vacanza E tutto il paesino Sapeva che arrivava La voce di Milaus La sera Andiamo a fare L'aperitivo Con i suoi amici Con le cose Si avvicina un ragazzo E Dice una cosa Con la voce di Milaus Io gli dico Una frase Con la voce di Milaus Lui mi guarda E mi fa Madonna Ma sei uguale Io rimasi Un attimo così Tutti quanti Ci fu un attimo Di silenzio Poi lui si rese conto Che aveva detto Una cosa Che so io Sai come vai E' uguale Come quelli Che ti dicono Madonna Sai che io Cioè Sentirti parlare Cioè Non Sembra Non sembri proprio Milaus Ho fatto Meno male Perché veramente Penso Sentri dentro A un Bar Qualunque Un caffè Per parlarsi così Nella vita Però Si no Un personaggio A cui sono Legatissimo Ma proprio Perché appunto Me lo porto Appresso Ci sono state Soltanto Due episodi Che io Non doppiai E al posto mio Lo fece Giorgio Borghetti Ma perché Io ero Quell'anno Avevo deciso Che mi volevo divertire E Andai a fare L'animatore Per quattro mesi Ok E Sarei dovuto tornare Dalla Calabria Ero A A Caporizzuto E Sarei dovuto tornare Da Calabria Per doppiare due episodi Parlai con Tonino E Tonino Mi disse Da Ti preoccupa Per due episodi Ho detto Sì Ma poi O ridate Sì sì Non ti preoccupa Il personaggio è tuo Anche perché Giorgio poi non fa Caratterizzazioni L'ha fatto un po' Con una voce Quasi normale Infatti stavo dicendo Come l'ha fatto No l'ha fatto Non è andato a cercare Di imitarmi O a fare Ma sai ci sono tanti Doppiatori bravissimi Parliamo veramente bravi Che però Sui cartoni Sulle caratterizzazioni Sulle cose un po' Mazzicano Si bloccano Sì E Io mi diverto Ho sempre fatto Mille voci Mille cose Ripeto Giorgio Dobbiettore straordinario Bravissimo Però in quel caso Non so se per una scelta Di Tonino O che non so Per altro E non Non lo caratterizzò Lo fece più o meno Una voce normale Piccolina Rimpiccolandosi Ma Bastanza normale Ok Vedi Io Mi sarebbe preso un colpo Se avessi sentito Quei due episodi Senza nulla togliere La bravura Insomma Del doppiatore Sì Beh in effetti Abituati a una voce Soprattutto poi Particolare Come con il Milano Lo senti Un'altra voce Dici Oddio Che è successo No più che altro Ti preoccupi Dalla mia salute Anche Soprattutto In quel caso Lo dici Oddio Che gli è successo Oddio ma che sta male Perché il primo pensiero È quello Il primo pensiero Oddio è morto Oddio Oddio Grazie Sto cercando Una cosa in tasca Sto cercando Sto cercando Una cosa in tasca Puoi portare la telecamera Su di lui L'antimo Ricordezia Perché ecco Grazie Non nel tuo caso No ho capito Quando fai un Cioè Tipo Per trent'anni Una voce Ed è sempre la tua E di colpo Non la senti Io Capisco la tua reazione Però la prima cosa Oddio Non è che gli sarà successo A cosa È brutto Cioè È la prima cosa Che ti preoccupi Poi dopo Fortunatamente È stato solo Quel periodo E c'è una giustificazione Due episodi Soltanto due episodi E quindi È sempre stato tuo E adesso Lo rivivremo Insieme Perché C'è un pezzo Di Milaus Dove parla È bello Perché parla proprio Dell'Italia In questo caso Ah la puntata Quella della nonna Sì Tra l'altro Fatemi anche dire Il mio pezzo preferito Di Milaus Dove ancora oggi Quando lo vedo Rido come un bambino È quando deve dare Il bigliettino Da parte di Lisa A Nelson E quindi Va a dare Sto bigliettino A Nelson Può uscire con me Sì o no Nelson lo guarda Milaus Gli fa una cosa Tipo ammiccante Lo sguardo di poco Così E Nelson lo gonfia L'immagine subito dopo È lui che esce in ambulanza Tutto distrutto Orello Davvero mi fa troppo ridere Vabbè ma lui Non penso abbia Cambiato occhiali Non so quante volte Gli erano rotti Quegli occhiali Distrutti In vari modi Ha fatto un po' di tristezza Perché non ci avevo mai pensato Che fosse il primo bambino È il primo bimbo Con genitori separati Ha fatto un po' di tristezza Adesso lo vedrò Ancora più Io parteggiavo più per il papà di Milaus Cioè più simpatico rispetto alla mamma Cioè diciamo A livello di Buffezza Sì Diciamo così La mamma è più dura Il papà invece Io ho solo Milaus Guardo solo Milaus Genitore Non mi interessa No Allora Che cosa abbiamo Ciao Lisa Oggi non sono qui per parte Sono qui per insegnarti Tutto sull'Italia Nihilas dictus facilus Voglio dire Ora fermati e ascolta Io sono l'insegnante Mandato dalla società Sono qui per insegnarti La storia dell'arte E della musica Mia nonna Nanna Sofia È siciliana Ma vive in Toscana Da quando ero bambino Ci passavo due settimane Tutte le estati Nonna sapeva l'inglese Perché durante la seconda guerra mondiale Un soldato l'aveva messa incinta Mio zio bastardo Nanna Sofia Mi raccontava sempre Tante cose dell'Italia Tutte le volte che non le parlavo O in dialetto mi dava uno schiaffo Pure lei E lì ho imparato Quello che so dell'Italia E ho cominciato A bagnare il letto Comunque Che ne dici? Posso essere il tuo mentore? Per l'esattezza vuol dire Insegnante maschio Cosa sono quelli? Cartoncini didattici? Ah Lisa L'Italia non si impara Si vive Vieni Facciamo un giro A Little Italy Ma prima Devo occuparmi Di una questione Della classe L'appello Lisa Simpson Eccola presente Bene Andiamo Eccoci qua Nubedul gelato Pabedda picciotta Mamma mia Che spettacolo Che spettacolo Abbiamo assistito Alla storia Dal video Che cosa bella Ma quando ci ricapita Di risentire Milaus Un petto in gelato Pabedda picciotta Pabedda picciotta Pabedda picciotta Fantastico Brevissimo Mamma mia Fantastico Quando hai dei fuori classe Come Davide Tu ad esempio Aspiri a fare questo mestiere Capisci che non è per te I brividi Quella era la sviolinata Quella era la sviolinata Vedi? Che ti ha fatto lui? Allippica Spanchi Allippica Che poi perché si dice allippica? È difficile Io tra l'altro sono andare molto bene È difficile andare al cavallo Galoppo Trotto Assetto leggero Punta su quello Non voglio puntare su quello Ma scusa C'è anche il fisico di Fantini Perché c'è secca Bassa Secca mi piace Bassa un po' È vero È vero Ma quella lo sai Una cosa mi sarebbe sempre piaciuto fare Che non Non ho mai A profondi Perché credo sia un senso di libertà Incredibile L'ho fatto quando ero minuscolo Avevo 12 anni Più o meno Perché girai una cosa come attore E si chiamava Quell'antico amore E l'ultimo sceneggiato che fece Antonio Giulio Maiano Che è stato un grande regista di sceneggiati italiani E io facevo il figlio del Duca di Parma Il piccolo principe Roberto Ero tutto vestito Da piccolo lord proprio Poi era il periodo che stavo doppiando Che ho doppiato il piccolo lord Per cui mi ci ritrovai Praticamente E avevo una scena bellissima Dove io passeggiavo Su questo cavallo Insieme a mio padre Nel parco del Ducato di Parma Era un cavallo Non era né un pony Né un cavallo Era una via di mezzo Come grandezza E mi ricordo che non volevo più scendere Stavo lì che passeggiavo Nei momenti di pausa Ero lì che passeggiavo E lì ho imparato a mangiare le carrubbe Le carrubbe Perché le davo da mangiare al cavallo Però erano buone Me ne maniò il figlio Ed erano buone Sì 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 Però ecco una cosa che dovrei Lo farò Perché no Perché no Ti fa insegnare a Spanchi Ah non c'è problema Dai Lei mi insegna un cavallo Io mi insegno Vedi che ho fatto il viaggio E beh Devo vincere il cavallo prima Devo vincere un cavallo Da una serie animata A un'altra serie animata Certo Papone Cioè Chris La meraviglia Chris Griffin Eppure quello sono a vent'anni Mi sa quasi Poi tutte cose super iconiche Cioè sei proprio ovunque Nell'iconicità Super fighe Poi sempre tre personaggi Ma L'iconicità Ti piace? Io un'idea me la son fatta Però ti dovessero chiedere Proprio la tua preferenza Tra i due la voce Cioè tra Chris E Milhouse Allora A livello di Affetto sicuramente Milhouse A livello di Follia Chris Chris è imbattibile È imbattibile È veramente imbattibile Che poi io nella Nella vocalità di Chris È un palese E chiaro omaggio A Lisa Simpson Perché se vai a vedere È Lisa al maschile Il modo di parlare Perché lui parla tutto così Ma se te la leggisci E poi diventa Lisa Cioè la cosa nasale È palesemente Un omaggio A Monica Ward E a Lisa Simpson Mi ha aperto un mondo Non ci avrei mai pensato Se ci fai caso Come parla Lisa Ingrossi la voce E diventa la Chris Quindi ti sei rifatto Proprio a Lisa Assolutamente sì Assolutamente sì È vero che anche lui In originale È abbastanza simile Però Però sì Però ecco Anche lì Ci sono delle cose Tipo il papone Il porcazzozza Che sono cose Che mi sono inventato io Porcazzozza Porcazzozza Ci faceva ridere tanto La prima volta Ci ha fatto Sì perché sempre Oh mio Dio Mannaggia Un po' come Linda con Cazzarola È per dargli Un timbro Cioè se tu senti Porcazzozza Pensi a Chris Immediatamente Immediatamente Quello è stato anche Quello molto 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 divertente Poi le prime stagioni Le facevamo tutti insieme All'eggiva Ci ammazzavamo Dalle risate Perché lì pure C'è Mino Che è Clamoroso Mino è clamoroso E Ecco Guarda la bellezza Mino è una persona Molto educata Molto Molto pudica Lui Ha problemi A dire le parolacce Perché lui Non le dice Cioè È Non lo so Come chiamarla Sensibilità A cose Però è molto Quindi fa fatica Quando deve Peter Che ogni tanto Dice delle cose Aghiaccianti E Allora noi lo prendeva Lo prendiamo in giro Un pochino Su questa cosa E lui si violenta E si trasforma In Peter E lo fa in una maniera Ragazzi Peter è Mino è clamoroso È clamoroso Ci sono alcune cose Che sono veramente Clamorose Sì però Lui è fantastico Ma tutti Perché all'interno Di quella Però sai cosa È che Io e lui E Nanni Perché pure Nanni Sì Costai E la cattiveria Poi di Stiwi Che è una cosa Ghiacciante Siamo un po' Più caratterizzati Rispetto Ad Antonella A Maura E a E a Leslie Sono un po' Più voce normale Ecco diciamo Che loro Sono più Una caratterizzazione Del carattere Del personaggio Noi oltre al carattere C'è una caratterizzazione Anche vocale Sì Vera e propria E E comunque Ci divertiamo Pure con Nanni Veramente Stiwi Un altro di quei personaggi Meravigliosi La serie È molto più Cinica Rispetto ai Simpson Sì A livello di serie E se mi dici Chi preferisci Tutta la vita è Griffin Sai che anche io A livello di serie Griffin A livello di serie Griffin raggiunge Dei livelli Di Tu dici Ma no Ma dai Non è possibile Che abbiano creato Questa cosa Soprattutto Con Peter Con Peter Fanno delle cose Ragazzi Da Peter gay A Peter Quando diventa Rutto muscoloso Cioè Fanno delle cose C'era una puntata Lui c'aveva Qui Un'altra faccetta Sua Sì Delle cose Allucinanti Allucinanti Ma invece ho scoperto Una cosa Mi ha detto Un mio amico Che fanno Dei cartoni animati Porno Quei Griffin Con Simpson Ah con tutto Con Dragon Ball Qualsiasi cosa Ma davvero Ma li fanno Non ufficiali Ovviamente Sì no Vabbè Dei fan Io sulle cose Giapponesi Lo sapevo E si Tipo la sorta Di entai No Quelli sono fatti Però Non sono fan made Però No vabbè C'è l'entai dragon ball Queste cose così No Sono sempre parte Dei fan made L'entai veri Sono Scusate E adesso Qua Non vorrei fare La parte Del pervertito Però Io mi ricordo Che ai miei tempi Ero giovane Ai miei tempi Adesso non mi vedrete più Con i soliti Con i soliti occhi Ai miei tempi Quindi in realtà Il ciuffo è bianco Ecco perché lo dici Ai miei tempi Andai in fumetteria E c'era il reparto Entai E io mi comprai Un fumetto Entai Con Dragon Ball Porno Quindi Lo vendevano In fumetto Lo vendevano E' un fumetteria Quindi io ti dico Questo lato giapponese Lo sapevo Però Io mi ricordo Qua Però Lato Griffin Io mi ricordo Che c'erano I fumetti Porno Appunto Dove però C'era la stellina La farfalletta Cioè non Era censurato Sì Era censurato Già il fumetto Adesso basta che metti Griffin XXX O qualsiasi altra cosa XXX E' così Esce Ma quello su internet Quei filmati fanno A me è un pensiero Di Chris che tromba Che mi lascia capito Come un Così O un Milaus Non so se lo fanno anche su loro O solo sui personaggi principali Però Eh sì È abbastanza E non ti sei rovinato Dragon Ball 2 Nella tua avventura Io non vedrei Non avrei mai il coraggio A parte che non vedo queste cose All'epoca apprezzai All'epoca apprezzai Ho sbagliato domanda All'epoca apprezzai E se sincero All'epoca apprezzai Ma poi Questa cosa andrà in onda O la taglieremo Questa parte Ma tutto perché Ormai l'abbiamo detto Ormai l'abbiamo Sì Però tirerò fuori io Penso Però insomma Ritornando a Chris Ci dicevi prima Come Seth Green Sì Sia stato fondamentale Per il tuo ingresso All'interno Beh sì Perché comunque Lori La nostra direttrice Quando arrivò la serie Comunque Guardò Le voci americane E Venì fuori Che Chris era Seth Green E Era proprio poi il momento Io Seth Green L'avevo doppiato Prima di Buffy In un'altra serie Sì Che si chiamava Hawaii Paradise O non Lulù qualcosa Che fu la primissima cosa Che fece lui Cioè E E E poi venne fuori Buffy Ed era proprio Il periodo d'oro Quando uscirono i Griffin Era il periodo d'oro Di Buffy l'ammazzà Sì L'ammazzà O come dice Bazzi L'ammazzà 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 È stato un lapso Perché tu eri Pure un bel personaggio In Dosso Un Creek Beh Sì Ecco Guarda Quello Non avremo Un Un tasto Un tasto dovente Sì Perché poi Non mi hanno fatto più doppiare Michael Pitt La cosa Mi lasciò un po' Così Però Però Era comunque un bel personaggio Bellissimo Bellissimo Il personaggio di Dosso Un Creek Bellissimo E Ma ci sono alcuni personaggi Che comunque Ti rimangono Io c'è un altro personaggio Che Adoro Alla follia Che è Dave Spade In Le regole dell'attrazione Le regole Oddio Come si chiama Le regole dell'amore Sì Che è una sitcom Da sentirsi Male Dalle risate Lui fa un personaggio Meraviglioso Perché l'ho spiegato La situazione Però è quello che si sente figo Le donne Ed è invece una merda Assolutamente Sì perché è divertente Non so se voi l'avete mai vista Perché La storia sono Cinque amici Sono due coppie Sono la coppia sposata La coppia di fidanzati E lui che è il single Ricco Ah Ricco Per cui ci stanno Questi incroci Tra la coppia sposata Che la pensa in una certa maniera Che ha vissuto la vita Quella di fidanzati Che ha l'entusiasmo Del fidanzamento Che ancora non si sposano Che però E tutto quanto E lui Che è il cinico Soprattutto Che si riguarda Perché lui è single Lui si diverte Lui fa le cose E quello per esempio È un personaggio Che io mi svegliavo La mattina avanti al turno Ero la persona più felice Del mondo Ci sono alcuni personaggi Che ti rimangono Sicuramente Quello di Do Son Crick È anche stato Uno di quelli È stato un bel personaggio Come lo è stato Robert Cioè Ci sono Dei personaggi Che ti rimangono Dentro Che ti rimangono Come lo è stato Il cappellaio matto In Gotham Il personaggio Meraviglioso È proprio bello Doppiarli Poi quando sono bravi loro È ancora più bello Ok È ancora più bello Sì Anche quello di Gotham Devo dire È stato Un bel lavoro Bel lavoro Sì Perché poi lui parla Tutto in rima È tutto Particolarissimo Bello 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 È stato Sì Sì E poi ci sono io Che Mi piace Racket Oddio Racket Mamma mia Il coniglio Anche lì Che bucio di bip È vero Difficile anche quello Parlava a raffica Poi sempre con questa voce così Con tutte le magie Le cose Quello ecco Quello è stato Tosto Mamma mia Era stancante Perché non si fermava mai Ed era un pazzo furioso Faceva delle cose Folli Cambiava voce Cambiava Si trasformava Faceva Ecco Diciamo Quello è stato Un bel esercizio di stile È stato Racket Perché era veramente Veramente tosto Quacco Degli Ani Maniacs È un altro personaggio Che è stato Bello Soprattutto Poi per le canzoni Ma Anche la serie Era Girata Era fatta bene Come serie No no Ci stanno Ci stanno Poi ci sono anche Le cosette Nei film Anche se sono state Magari piccoli Camer Piccole cose Che ti Che ti gratificano Io regalo sempre Ai miei allievi Quando facciamo Lo spettacolo finale Gli regalo sempre Un foglio Dove c'è scritta Una cosa Che per me È molto importante E Che non è altro Il discorso Che fa il mio personaggio In Coach Carter Che è un film Molto bello Sul basket Su questi ragazzi E c'è questo Personaggio E Appunto il mio personaggio Che Quando lui Il coach decide Di abbandonare Per non farlo andare via Gli Legge questa cosa Che è Il discorso Di Nelson Mandela Un discorso Di Nelson Mandela Che è molto Molto bello Ecco Quello Per esempio È un'altra Di quelle cose Che ogni tanto I fan Mi tirano fuori È stato un personaggio In un film Che non è stato Neanche Chissà quale è successo Questo film Però è una cosa Che si ricordano Ma qual è Quello che siamo Alla Esatto 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 Quello con Samuel Jackson Che fa Coach Carter E Jumanji È un attore Quello lì Che io adoro Lui fece Lo doppia in una serie Sempre con Massimiliano Alto Che si chiamava Flight of the Concords È Una serie che ha visto Pochissima gente Ma che era la follia Più totale Anche quella È una serie Lui è australiano Era una serie australiana I Flight of the Concords Sono un gruppo musicale Esistente Io facevo La gente Di questo Di questo duo musicale Facevo tutt'altro lavoro C'avevo il mio ufficio Che era una cosa minuscola E gli trovavo Delle serate Tipo Al bar dell'aeroporto Alla commemorazione Della tomba Nel parco Delle cose assurde Era molto Molto divertente Anche quella Stavamo sempre insieme All'Eggio Con Davide Scevali E Pasquale Anselmo Era veramente Veramente Tanta roba Pure quella E poi ci sono i personaggi Quelli per cui Fai i provini Non lo vinci E te Te rimane là Ne puoi citare uno? Assolutamente Sì Però Allora Uno è stato Il gladiatore Ok Su quale personaggio? Sul personaggio Che poi fece Francesco Burken Che è il principe Giovane Adesso non mi ricordo Neanche come Come si chiama lui E quello che parla Con lui Nell'arena Quando Commodo Commodo Esatto E invece Quello che mi è dispiaciuto Non fare E Perché è un attore Clamoroso Ma che Che a oggi Non potrei mai Vedere Senza la voce Di chi Ha vinto Il provino È stato Loki Ok Che hai detto Middleston Sì Un attore Di teatro Clamoroso Ma io senza la voce Di Davide Oggi non potrei mai vedere E il provino Sotto Middleston Lo facesti Sull'occhi Proprio Sull'occhi Su lui Nel primo Thor Ok Però ripeto A oggi mai Potrei vedere Quell'attore Quel personaggio Senza la voce Di Davide Esceva Lì È perfetto È perfetto È quando Dici Sì ho perso Ma Giusto Cioè lui È Perfetto Ok Quindi lì C'è dispiacere Però La consapevolezza Assolutamente Sì Ma guarda Alcuni Sempre la nostra Generazione Alcuni di noi Ogni tanto Ci telefoniamo Per farci Complimenti Perché ci siamo Sentiti In qualcosa Dove Io per esempio Mi ricorderò sempre Chiamai Davide E lui doppia In Sing E lui doppia Il Topolino Che è un personaggio Meraviglioso Io non l'ho riconosciuto Quando noi Non ci riconosciamo Vuol dire Abbiamo vinto Perché Sai Per noi basta Ah Questo è Davide Piripì Questo è Alessandro Cioè Ormai Lo sentiamo Quando non ci Non ci riconosciamo E dobbiamo andare A vedere su Genna Chi è stato E poi lo scopri E dici No vabbè Calcola io La prima volta Ho sentito Il Topolino In Sing Pensavo fosse Pino a Mendola Cioè Stiamo parlando Di due Voci E due persone Completamente Diverse Chiamai Davide Per fargli complimenti Assolutamente A me qualche tempo fa Mi ha Salutiamo Davide Mi ha fermato Oliviero Di Nelli E mi ha detto Davide T'ho sentito In quella serie So dovuto andare a vedere Chi era Ma Ma che bravo è Che è una cosa Che fa piacere Quando tra colleghi No C'è Certo C'è questa cosa Io adesso ho visto Come si chiama Un film Meraviglioso Strano Strane Creature Povere creature Povere creature Film La fotografia Una cosa Maravigliosa Oh Stava parlando Mario Cordova Che tu dici Cazzo Mario Lo riconosci Subito Su William Defoe Io sono durata A vedere chi era E poi ho chiamato Mario Ho fatto Mario Lavorone Veramente Lavorone Io credo che sia giusto Gratificarci No Certo Una cosa molto Eh però A volte invece c'è anche Dell'invidia Purtroppo C'è gente che se perde Un pruino La prende troppo La prende male Ma male nel senso Di incazzatura O di dispiacere Perché Sono due cose diverse No ma proprio Con crisi esistenziali C'è proprio la via male Ma La prende proprio male Però Succede Voglio dire Chiaro Non si può piacere a tutti No ma non si può essere Giusti su tutti Non a caso Quando si fanno i provini Comunque Sono sempre due tre voci Che vengono No Provinate Che vengono provinate E per cui Però credo ripeto Che sia bello Quando tra di noi Ci si telefona Ci si chiama Per dire Oh Mazza Lavorone Bello Grazie Grazie Certo Certo Dovrebbe essere così Nella norma Eh quanto sarebbe bello Se tutti Ragionassero Questo modo Però purtroppo Non è Non è così Ma in nessun ambito Cioè c'è sempre comunque Quelle Quel gruppo di persone Che ragionano fuori dal coro Comunque sono più No Eh Tendono a rendere l'ambiente Meno Meno sano No Di quello che poi potrebbe essere Sì ma non è neanche una questione Di meno sano Secondo me È una questione di E Accettare Determinate cose Allora Io mi ricorderò sempre Una volta Mi chiamò la Sefit Per un film E Mi disse Davide senti Guarda c'è questo film Con Angelo Nicotra Come direttore Sono otto turni Mi dai disponibilità E Io dissi all'ufficio Dici Betta guarda Purtroppo sono in sala C'ho solo quattro disponibilità Non ce l'ho otto turni Da darti E Ah vabbè Aspetta aspetta E mo capisco Mi richiama E mi fa Guarda allora possiamo fare Martedì il quarto turno Ho fatto Betta Io non mi trovo dati i quarti turni Come disponibilità Ma perché Dice ma tu non li fai i quarti turni Per me nove ore al giorno Possono anche bastare Come lavoro Poi si è capitato di farli Per casi estremi Però diciamo Non è una cosa Che a me piace fare Il quarto turno Aspetta aspetta Adesso Chiamo l'assistente E gli faccio rifare i piani E Che è un lavoro Per l'assistente Ragazzi incastrare Le persone Le cose I piani Un lavorone E gli faccio rifare i piani Casomai Ve le facciamo diventare Guarda L'ho fatto Bene La ferma Ho detto Ringrazia Angelo Ma io non lo posso fare il film Cioè Se non ho le disponibilità E perché comunque sto lavorando Ringrazialo Ce ne sono tanti Bravi come me Della mia età Lo farà qualcun altro Io farò il prossimo film Ah ma tu ragioni così Sì Io ragiono così Mentre D'altra parte Quasi non c'è tempo Pure che non ragionassi No ma guarda Che poi alla fine Avrei fatto rifare Tutti gli anni All'assistente Le cose E magari poi In quattro turni Di colonna Separata Però Cioè io non sono quello di Vai torni 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 C'è gente che fa Cinque giorni al giorno Si fa libera da una parte Perché non c'è Il coraggio di rifiutare Cioè se non hai Non lo puoi fare È perché stai lavorando È anche questo Uno dei motivi Per cui C'è meno spazio Per tanti Doppiatori bravi Che stanno a casa Cioè io in quel caso Ho liberato spazio Per un altro doppiatore Che aveva disponibilità E magari non stava lavorando E che in quel caso Ha lavorato Ma non è che io l'ho persi Perché sono rimasto a casa Non fa niente È chiaro Stavo lavorando E non lo potevo fa Però Molti è diventato Prendo tutto Prendo tutto Sì Mettendo poi Secondo me le società Anche a volte In situazioni Io a oggi Per esempio Da direttore Non faccio più Liberazioni E aspettare Il turno è di tre ore Poi è chiaro Che se Non sei collegato All'altro attore E c'hai Cento righe tu E quaranta l'altro A te ti dico Che ti mando via Le tre e mezza E all'altro Lo faccio venire Alle tre e mezza Ma perché Anche un minimo No Ma era diventata Ormai Con questa cosa Delle colonne separate E questa cosa Del covid Poi Era diventato Tutto un Orario Le quattro persone Al turno Uno alle una e mezza Uno alle due e mezza Uno alle tre e mezza Uno alle quattro Con quello Che deve stagliare Alle tre e mezza Che magari ti arriva Alle tre e quaranta Alle tre e quarantacinque Ti arriva più tardi E comunque Ti dice Eh io poi Però devo andare Dalla Anansia Stress Le cose Per cui adesso Cerco di fare Le lavorazioni A due Alleggio Verrà Spontaneo Spontaneo Per rispondere Quello prima E quindi Qualcun caso Te la devi tenere E quel caso Te la devi tenere O Se Sai che quella persona Deve tornare All'assistente Riff Segni Segni Esatto Riff Segni Rifacimento Perché la rifacciamo Questa Perché per come Gliel'ha detta lui Non risponde Nella maniera giusta E Io sono contento Di questo nuovo Contratto Perché A me non mi interessava Dei soldi In più Dei soldi in meno E Però L'abbassamento Del monte Ricchia Durante i turni Ti permette Di poter lavorare Con molta più Tranquillità Una volta si facevano 200 righe a turno Sì Adesso il film Non puoi superare 130 Altre film Non puoi superare 160 Si guadagna in qualità Si guadagna in qualità Poi purtroppo Ci sono Alcuni direttori Che l'hanno presa Nella maniera sbagliata E quindi Ho 130 righe Vado a casa Anora prima Eh Però poi la qualità Ne risente Io quando abbiamo fatto Ripley Non ci siamo alzati Da quella sedia Che non erano Le 7.35 di sera Mai Ma perché Lo sfrutto Il tempo Che c'ho Magari mi faccio Due pausette In più Durante il turno Però Ci tieni A prenderti Tutto il tempo Per poter fare Il meglio Io mi ricordo Facevo una serie Facevo una serie E c'aveva Era The Hills Stiamo parlando Della primissime stagione E c'avevo protagoniste Perla Liberatori E Dometria D'Amico Stiamo a parlare De due Capito E c'erano i torni 200 righe Io chiamavo in ufficio E dicevo Te prego 200 Eh vabbè Ma c'hai Perla e domitilla Se le magnano Sì Sì è vero Che se le magnano Ma io è proprio Perché c'ho Perla e domitilla Che Voglio andare A Sfrucuglià Sì sì Perché so Che mi possono Dà il triplo Se andiamo a Sfrucuglià E anche I doppiatori stessi Non pensiate che So contenti Di andare via Un'ora prima Alcuni sì Ma altri Sono più contenti Di andare a casa Stravolti Dopo tre ore di lavoro Perché hanno Perché hanno Lavorato Perché si sono fatti Il mazzo Però per fare cosa Fare un bel prodotto Una cosa bella E fare poi Il nostro lavoro Che è quello È bello Veramente un bel discorso Questo Quello deve essere Sì Ci abbiamo il tempo Adesso di farla La qualità Facciamola Perché veramente Ragazzi a volte Si sentono Le cose Aiuto Aiuto Però non sta A noi giudicare Non sta a me Sicuramente i giudicari Io parlo per quello Che è il mio lavoro Io sono Con la coscienza A posto Quando consegno Una lavorazione Chiaro Però diciamo Che inizialmente Il discorso Che noi sentivamo Da tanti tuoi colleghi Era Purtroppo Non possiamo più Andare a mettere L'attenzione Sulla qualità Perché il tempo Non c'è Ora c'è Ora Questo discorso Non si può più fare Perché ora Con il nuovo contratto Questo tempo c'è E quindi È un passo Verso a lavorare Come si faceva Una volta Ed è un passo Verso il Cerchiamo di riprenderci Certo che poi ci sono Delle componenti Che devono andarsi A incastrare Una su Soprattutto Una su tutte Che è L'adattamento Se gli attori Funzionano Cioè se gli attori Funzionano Gli attori Funzionano comunque E se funziona L'adattamento Ma tu davvero C'hai la Qualità del lavoro Che esce fuori Dopo è Clamorosa Purtroppo Nel 60% Dei casi Arrivano Degli adattamenti Agghiaccianti E magari Ecco Il fatto di avere Minoriche A oggi ci permette A noi direttori Di Mettersi lì E riscrivere Praticamente E correggere L'adattamento Cosa che comunque Facciamo pure Quando ce ne avevamo 200 Poi ci sono quelli Malati Come me Che Io se là C'è una labiale Cioè devo mettere Una labiale Assolutamente E quelli Che ne frega niente Capito Però a volte Ci sono cose Che tu leggi E dici Oddio Che Sì Ci sono delle cose Che sono troppo So fatte Con Google Translate Cioè E te ne accorge Quando sono fatto Sì ma tu non mi puoi dire È stata ritrovata È stato ritrovato Il relitto Di una barca Fra le rocce E che era L'arca de Noè Sul monte Arath Sarà fra i scogli Per esempio Ok Sì O Ripley Ambientato Nel 1958 Appena Sapremo E le dirò Le dirò qualcosa Appena lo avremo Localizzato E quindi Come noi Localizzato Perché su Google Translate La prima parola Sul localized Che ti dice È localizzato No Individuato Appena l'avremo trovato Trovato Non ci vuole tanto Eh Però quello Vuol chi prende La traduzione Google Translate E metterla E metterla là Eh sì È chiaro Leo al forse Leo al forse E di questi Ce ne sono tanti Io mi sono ritrovato Ragazzi Su Warrior Run Serie A proposito di manga Serie Meravigliosa Che io ho adorato Dirigere E a un certo punto Ma è strano No non è strano Non è strano Non è strano Semplicemente Dovrebbe Persone che non sanno Fare il loro Ma anche perché Pure lì Poi c'è un discorso A monte Dei tempi Certo I tempi Tra quando Gli viene dato Il lavoro E quando Lo devono consegnare Va bene Allora Io andrei Adesso A fare L'ultima lettura De Chris Stavo aspettando C'è la lettura Di Chris Papone Papone Perché poi Io devo stare attento Che ogni tanto Quando faccio Chris Casco Mike Buongiorno Quando parlo tanto Perché se comincio A parlare Cosetto Poi dopo un po' Diventa Caro lei La 1 La 2 O la 3 Allora E' un momento In cui Chris Doveva superare Una sorta di esame Quindi stava studiando Sapendo Di non farcela Perché Insomma Sappiamo che Chris Non è celle Non crede in se stesso E quindi Prima si raffronta Col padre Dopo con Stewy Che cerca Di aiutarlo In questo suo Studiare Allora Eccoci Vediamo Che c'è fuori Mi dispiace Papone E' da un bel po' Che non vado bene A scuola Devo studiare Tanto per il test Di storia Lo so Sam Cook Non sapeva molto Di storia E gli hanno sparato In albergo Quando indossava Solo una giacca Sportiva E una scarpa Ma non ce la faccio E' tutta la notte Che sono qui E non ho imparato Niente Non passerò mai Il test Del professor Herpington Dai Stewy Fammi qualche domanda Chi ha detto Se c'è qualcuno Da temere E la paura Stessa Scupidu No Shaggy Ah Ah Nessuno di Scupidu Oh Io non so niente Di storia Lo so E se mi bocciano Quest'anno Non concluderò Niente Nella vita Finirò Come quegli autisti Di scuolabus Che fanno Per occupare Le mamme Ha una bellissima Bambina Signora Roberts Fantastica Chris Griffin È meravigliosa Incredibile Come cambia La persona Che si va a sposare Nella tribù Che poi canta Wake me up Before you go O quando Sotto in grado C'è il gruppo Metal Sì ma ne ha fatto Anche Christobel Christobel Quei capelli Mezzo immaculatico A me piace molto Quando fanno Le cose Dei racconti E si vedono loro Nei personaggi famosi C'è la trilogia Riguere Stellari Ah sì C'è la Riguere Stellari Come un pazzo Come un pazzo Ci sono delle idee Su quel Su quella trilogia Ma solo Just Ewey Che fa Da better Cioè Arriva a sto coso Alto così Sì è strepitoso Strepitoso Meraviglioso I Griffin E lì La cosa geniale È Meg Meg appare Soltanto Nel primo Guerra Stellari E fa L'anaconda Che loro trovano Nel primo Perché La trilogia Se voi avete Conoscete la trilogia Di Star Wars Ci sono alcune scene Che sono Parapara Rifatte A cartone animato Quando loro stanno Nel trita rifiuti E c'è questo mostro Lì dentro E c'è la scena Trita rifiuti Il mostro esce fuori E ha gli occhialetti E il cappellino rosa Ed è l'unica cosa Che fa Meg Che paura ciccia A volte viene trattata È sempre bisprattata La massacrano La massacrano Quando lei parla E Peter li fa Appena apre bocca E E griffin Sono spettacolari Bellissimo Bellissimo Allora io Per chiudere l'episodio Andrei proprio con Il romano Oddio Perché noi abbiamo Noi abbiamo Un libro Che è molto caro Libro E si chiama A Roma se dice così A Roma se dice così Quindi qua Ti chiederemo Di scegliere C'è del tè freddo C'è del tè freddo Sì 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 Dall'inizio Mi vedete bene Sai che cosa ci sarà dentro Cognac Corretto con grappa Però è tè freddo Ma è lui che ti versa Anche le cose Quindi in caso Sarebbe colpa sua Sei infame Lei è la scimmia Nell'armadio di Cristo Ma come Esatto La scimmia nell'armadio La scimmia cattiva Quindi ti chiediamo Di sceglierti un termine Magari usi spesso E ti piace All'inizio Cioè tutto il libro Ci sono i termini Quindi una sola parola Alla fine ci sono le espressioni Tipo Socculo e camicia Per dottere l'idea Sceglitene una Ce la sigli Così nessun altro La reciterà mai E tu puoi scegliere Leggere Recitarla Interpretarla Con la voce di uno dei tuoi personaggi Puoi fare come ti pare Quindi Ti diamo questo Bellissimo libro E chiudiamo proprio con A Roma si dice così Bene bene Buonaggine Impariamo il romano Con Davide L'errore Molto bello Sono curioso Perché ognuno Sceglie poi Quell'espressione O quella frase Che magari Ha un po' Il significato La usa spesso Quindi Voglio vedere Davide Chissà cosa pescherà Ormai Cominciano anche un po' A Trovata subito Questa è la cosa che dicevo sempre E allora prendiamo No va bene Lasciamogli decidere Proprio In ampia autonomia Perché ho visto il cuore Capito quando ho fatto Quella risata Ho detto Questa la dicevi spesso No perché una cosa Ogni tanto Ho detto pure mio figlio Mi guarda e dice Ma che dici Ho fatto chiudere la finestra E tirano a Giannetta Ah è bello Giannetta è inspiegabile C'è la scelle pezzate Vabbè quello lo saprà Anche un giovane C'è la scelle pezzata No la Gianna scusa Il mio figlio non dice C'è la scella Che a me lacrima Loro dicono quella Adesso C'hanno ragione loro Si evolve Poco il tempo Certo Io come pensa Romano Mi viene sempre in mente Mario Brega Vabbè Lui è proprio Romano De un'altra generazione Camano può essere Esatto Se c'è da calare Calo Quello è un altro Però Lui c'è una parte A me fa morire Quella Quella De chi? A me fascio Io non so Comunista così So comunista così Che chiamava il prete Il vicino Perché Sempre fatti la perdone Sì 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 C'era il figlio Che era tipo Mezzo hippie E si è portata a casa Questa che era Una figlia dei fiori Mi ricordo benissimo Che masticava Bellissimo Il pezzo Ma questi Vanno in giro Con quello Un uccello De fori Ti ricordi? E c'era Il santone Mi ricordo Ma non le parole C'era il santone Ricordo la scena Lì nel salotto Tutto quanto Sì perché Questi poi Andavano Tutti in mezzi nudi Con sto santone Che era il capo Degli hippie No Che diceva Che andava qua a bici Non mi ricordo Eh sai che diceva Patate piselli Sì te lo ricordo Sì sì Patate piselli da mangiare Eh che è chiaro Mi sa che l'ho trovata L'hai trovata Sì Sì perché è una cosa Che poi dico Ok Oh Copriamola insieme Ma devo leggere La definizione? Sì la devi leggere Amor tu Interpreti un po' come vuoi dire Allora S'è fatta una certa Fare tardi con gli amici Scambiare quattro chiacchiere in serenità Magari in piazza o in un locale dei quartieri della Movida Tra Stevere, Testaccio, Rione Monti Soprattutto d'estate a Roma Offre ancora spazi di aggregazione sociale Magari un po' affollati ma piacevoli Ci si perde tra le luci della notte Ai piedi di una scalinata Seduti su un moretto appoggiati al parapetto di un ponte Le parole scorrono via veloci Le risate riempiono la notte Alla fine Quando qualcuno lo dirà È inevitabile Regà S'è fatta una certa Il modo efficace e diretto Per far presente agli altri Che è tardi E che domani inizia una nuova giornata Piena di impegni S'è fatta una certa Ovvero Abbiamo tirato Fino a una certa ora Piuttosto tarda Per dirla in italiano A quel punto Iniziamo i saluti E si va a dormire Regà Io vado S'è fatta una certa Bellissimo Cioè Dovamo chiudere proprio con questa Regà Io vado S'è fatta una certa Devo mettere Devo mettere Devo Aspetta Devo sigli Sì La sigli Così questa rimarrà Eccola Per sempre tua Come la siglo Come la devo siglare Come ti pare Come vuoi Hai sentito In italiano perfetto Enunciato queste parole Com'è più impattante Rispetto Al romanaccio Mitico Abbiamo tirato Fino a una certa Ora Piuttosto tarda Bellissimo Grazie Ma ce ne stanno Comunque Sì ce ne stanno Di modi e di cose Esatto Si è fatta una certa Proprio È una cosa Proprio che dico Sì anche io Lo utilizzo Nel linguaggio Si è fatta una certa Vabbè raga Si è fatta una certa E poi io dico Sempre una cosa Se mi prenderete per pazzo Che ogni volta Tutti mi dicono Ma perché dici sta cosa Che ne so Stiamo al turno Alle cose Io devo andare in bagno E faccio Vabbè io vado a fare Una simpatica pipì E loro mi dicono sempre Ma perché simpatica Non lo so Io però lo dico Da sempre Una simpatica pipì Vabbè io vado a fare Una simpatica pipì Ma perché Perino Così Però qui non c'era Simpatico Alleggerisce Il concetto Sì Ma dice anche Una simpatica pipì No Quella non avverto Quando se ne accorgono Quando non mi vedono Tornare dopo dieci Dopo dieci minuti Quando se ne accorgono Dalla lunghezza Mi assento con simpatia Se no ecco Un'altra cosa Che è simile A Se è fatta una certa Che è sempre Che non stiamo Vabbè Famo quelli che vanno Famo quelli che vanno Famo quelli che vanno E questo è un altro modo Di dire Se è fatta una certa Vabbè Famo quelli che vanno Però questa è tua Sì questa è mia Anche la simpatica pipì Anche la simpatica pipì Anche la simpatica pipì Copyright da videore Adesso le facciamo partire Molto se è fatta una certa Comunque Bello Non potevamo chiudere In maniera migliore Ragazzi Facciamo quelli che vanno Facciamo quelli che vanno Perché se è fatta una certa Quindi io andrei a salutare Ovviamente tutti voi Posso dire una cosa Tutto ciò che vuoi In primo piano ti metto Mettilo in primo piano Bello grande Qual è la Quella O è questa La tua È questa qui Questa qui Esatto I Digimon sono una serie inutile È partito l'applauso E adesso Cominceranno a dirvene di oggi Taglia Mauro Taglia 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 Anzi Taglia nulla Anzi Questa rimane Una cerca per strada Questa rimane come Se io incontro un Digimon per strada Lo metto sotto una macchina Allora ve le cercate però Dovevamo chiudere in questo No a me mi dispiace Tutto quello che è successo Dopo quelle affermazioni Non volevo offendere nessuno Lo giuro Era solo un mio pensiero Ma certo Ma certo Era solo un mio pensiero Guarda Per cercare di essere Lo sono i Digimon Come lo sono i Pokémon Così Oh Abbiamo dato una botta Una parte Perché se io incontro Uno che sta a cercare I Pokémon per strada Lo metto sotto La tua macchina Ok E della colpa Mi è sbucato di colpa Perché C'era un po' Attraversato Vedevo che guardava il cellulare Guardava Faceva Va bene Ragazzi Grazie Grazie a te Noi siamo Noi siamo stati È stato un bellissimo episodio Siamo stati benissimo Ovviamente Anche io Veramente Sono stato molto 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 bene Ti ringraziamo tantissimo Per essere ritornato Per averci ridato fiducia Per la disponibilità Che hai dimostrato Ma E poi è bello Ebbè è più bello Dal vivo È vero Per noi sicuramente Sì È molto più bello Sì Dai Infatti è qualcosa Che tenevamo molto a fare È stato sempre Un nostro obiettivo Adesso ce l'abbiamo fatta Siamo contenti Pensa che Mauro talmente vuole Questa cosa dal vivo Che adesso sta pensando Qui butta giù E fa tutte delle scalinate Per il pubblico Facciamo tipo anfiteatro Esatto Beh non sarebbe brutta Ci sta a pensare Datemi tutti i box Datemi tutti i box Tutte le cose No ma poi è bello l'ambiente È bello dove stiamo Grazie Sei molto gentile Si sta bene Avete fatto Che bello Un lavorone Grazie Noi ci prendiamo questi complimenti Ovviamente ci fanno super piacere Ce li portiamo a casa La cosa del pubblico sarebbe figa Ma non si può fare Spazio Non si può fare Perché qui di fronte Tra l'altro ci sono Due simpatici signori anziani Però sarebbe bello col pubblico Perché poi Fanno parte del pubblico Le domande dal vivo Sarebbe bello sì Sarebbe molto bello Parla dal vivo La trasmissione Scusa ma perché non ci organizziamo Una volta Sentiamo E facciamo Una puntata sola Vediamo poi come va Qual era la forza Delle sitcom Regà Erano tutte girate in teatro Col pubblico vero Quindi tutte quelle reazioni E risate Gli urletti Eh lo so È bello È bello Dovremmo farlo Però tipo una sorta di Puntata evento Puntata speciale Facciamo la puntata di Natale Vediamo Vediamo A livello tecnico Sai che sei il primo ospite E tra l'altro Dovrei anche occuparti Di portare il compagno Se fa una cosa del genere Veniamo vestiti da Renna Da Renna Ok Lei la vestiamo da Elfo A te da Babbo Natale Va bene Tipo la Sì 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 Facciamo tipo il pacco Entra il pacco regalo E escono fuori Davide E usciamo noi con le Renne Esatto No adesso Però a parte gli scherzi È davvero Una puntata evento Una cosa Si può fare Si affitta Si affitta un teatro Che si fa Certo No L'idea è carina Vediamo Se riusciamo a incastrarla Con tutto Con tutto Se ci pensate Io vi do una mano Molto volentieri Noi grazie Grazie Comunque fatemi ringraziare anche Spanky Che è stata con me questa Sarah Grazie Spanky Prego Anche se il pubblico non apprezza Io Il pubblico apprezza Sei un caposaldo di questo canale Di questo tema Lasciami stare Lasciami stare E ovviamente tutti voi Che ci seguite sempre Non vi tedio ulteriormente con Fate mi raccomando tutte quelle cose Perché l'ho già detto all'inizio Però voi fatele Perché per noi sono molto molto importanti Avere un riscontro Avere un riscontro E vedervi crescere Sempre di più Così come state facendo Stiamo diventando una community Oltre che bella Perché lo siamo sempre stati bella Ma anche molto molto numerosa E questa È una cosa bellissima Vero Spanky? Molto bella Così aumentano i complimenti Ma anche gli insulti E a lei gli insulti A me i complimenti Buonanotte a tutti Alla prossima Si è fatta una certa Si è fatta una certa Ciao Buonanotte Ciao a tutti Ciao ciao